buongiorno e benvenuti nella mia cucina la cucina di a tavola con silvia ragazzi quest'oggi i fiori di zucca del nostro orto finalmente chi segue le nostre dirette saprà benissimo e mi avrà anche visto raccoglierle esatto bravissimo è stato bravissimo bravissimo veramente si noi ci divertiamo ogni tanto a fare le dirette nel nostro orto e a farvi vedere quello che è quello che nasce esatto tra fiori di zucca zucchine e pomodori allora oggi le andiamo a fare in modo differente perché noi abbiamo già i fiori di zucca fatti con imbottiti con la ricotta abbiamo già i fiori di zucca fatti con mozzarella alice con il classico insomma quello che si mangia di solito quest'oggi vogliamo farli con prosciutto cotto e mozzarella le abbiamo assaggiato in un ristorante e sono veramente buone è vero è vero sono molto buone come primo step ragazzi io non li ho lavati perché se li lavavo succedeva al finimondo andrò a lavare i fiori di zucca ma prima vi dico gli ingredienti per fare la pastella e ovviamente per imbottirli allora per imbottirli dobbiamo avere 34 fette di prosciutto cotto in realtà per questa quantità sono 1 2 3 4 5 6 7 o diciamo 8 perché questo amore mio l'ha raccolto ma piccino che facciamo come ornamento diciamo 7 ok 7 fiori di zucca poi abbiamo bisogno di un bocconcino tagliato a filetti ma anche questo ovviamente non servirà tutto per 7 fiori di zucca diciamo che un bocconcino tagliato a filetti vi serve per una ventina di fiori di zucca ok abbiamo bisogno di circa 200 ml di acqua fredda e strizzante di circa dico circa perché comunque gramo più gramo meno poi andate a occhio vi faccio vedere come andare a occhio anche questo è importante imparare ad andare a occhio perché perché non sempre abbiamo la bilancia sotto mano perché magari si è rotta a me è successo e quindi andiamo un attimino così attentoni piano piano imparate a non pesare gli ingredienti è importante anche questo una puntina di bicarbonato io la faccio così oggi se no volendo la faccio anche senza bicarbonato quindi se non vi piace potete non metterla col bicarbonato l'hai sentito l'altro giorno viene una pastella fantastica bella soffice soffice ma in realtà già viene soffice con l'acqua frizzante e fredda poi un pochino di sale e un cucchiaino di olio noi ovviamente qua andiamo sul sicuro perché noi abbiamo l'olio del gruppo caro che è meraviglioso e si presta per qualsivoglia preparazione sì l'olio e tutti gli altri prodotti del gruppo caro vi consiglio di andarli a vedere sul loro sito gruppo caro puntagoma ma vi lascio anche il link in infobox andate a vedere perché il rapporto qualità prezzo è straordinario assolutamente e poi ogni tanto tirano fuori degli sconti fantastici è vero è vero quindi prepariamo intanto la pastella insieme e poi andrò a lavare i fiori di zucca perché ragazzi quelli che dovete lavare e preparare non potete lasciarli bagnati perché sennò i pedali si macerano immediatamente ok faccio vedere questa pastella subito prendo la frustina di mia nipote guardare quanto è bellina metto il bicarbonato che non scende perché la tazzina era umida giusto amore tu hai preso la tazzina umida vero amore perché lui mi aiuta stellina però a volte diciamo che a volte ecco scusate cellulare questo è sicuramente mia figlia un bel pizzichetto di sale che ci sta il cucchiaino di olio come vi dicevo prima voilà scusate rumore e adesso vado a mescolare con l'acqua fredda a filo in questo modo quindi tu dici di non pesare ma di andare d'occhio perché deve raggiungere un certo esattamente una certa consistenza una certa consistenza se veniva la parola perché deve essere liquida ma non troppo la farina io uso sempre quella chi mi conosce già sa l'ha caputo nuvola che si presta soprattutto per i grandi irritati e pastelle pizza mescoliamo ben bene in maniera da togliere eventuali grumetti assaggiamo e lo so che sta bene di sale infatti sciata io ultimamente ho litigato col sale ragazzi quindi più di un pizzico due adesso che abbiamo fatto non abbiamo fatto ancora una volta fatta la pastella si possono lavare esattamente una volta fatta la pastella mettiamo la padella con l'olio sul fuoco o anche un pentolino profondo vengono meglio non si sa nessuno col pentolino profondo e adesso ecco la pastella è pronta vedete deve essere lenta come vi posso spiegare un po come una besciamella più morbida ok quindi metto sulla padella vado a lavare i fili di zucca ci ripetiamo qua per imbottirle al volo eccoci qua l'abbiamo lavati puliti disinfettati ma non ce n'era bisogno in quanto non abbiamo messo nessun disinfettante nessun concime chimico dentro al nostro orto niente di niente allora mettiamo il prosciutto cotto mettiamo il pezzettino di mozzarella e lo mettiamo qui e andiamo avanti così per tutti gli altri io non tolgo il pistillo a non piace però è perché c'è comunque il gusto leggermente amarognolo che però se a voi non piace per carità toglietelo ovviamente la quantità da mettere dentro i fiori varia secondo la grandezza del fiore ok quindi è inutile che vi dico mettete un pezzetto da 5 centimetri dove deve del fiore li riempiamo tutti e ci vediamo sui pernelli esatto eccoci sui pernelli allora guardate facciamo questo lo giriamo in questo modo così non solo si sigilla con i petali ma viene completamente bagnato dalla pastella che lo mettiamo dentro abbiamo fatto già la prova del stefino ovviamente aveva sempre abbassato un pochino il fuoco poco poco ok perché sono magari non si cuoce dentro andiamo a friggere tutti quanti e ci vediamo a fiori fatti preparatevi abbondante carta per fritti o carta scottex mi raccomando quella dell'alimenti e non quella per pulire e così almeno l'avete già pronta qui per mettere i fiori appena sono pronti ragazzi guardate che belli in sottofondo sentite anche la voce di nipote io ne assaggio uno per rarci guardate che una nuvola sono con questa pastella ragazzi sarà un successo fai sentire la croccantezza amore sentito guardate come sono belli e la pastella è appena accennata ragazzi fate questa ricetta e fateci sapere se vi è piaciuta ci vediamo alla prossima ricetta ciao ciao a tutti